Al Castello Arechi la Salernitana ha presentato le nuove divise da gioco, logo del centenario, edizione limitata, Granata per la prima maglia, bianco celeste e Granata per la seconda con il richiamo alla storia e il giallo per il colore della città per la terza maglia. Al tavolo con il responsabile ufficio stampa Gianluca Lambiase, il coppatron Marco Mezzaroma ha illustrato le iniziative di una stagione storica. A fine luglio si terrà un triangolare con Bari e Regina nel ricordo di Carmine Rinaldi, il siberiano, a cui è intitolata anche la curva sud della Rechi. Non poteva mancare un ritorno a quanto avvenuto nell'ultima stagione, con il rischio retrocessione vissuto e superato solo ai calci di rigore con il Venezia. La Salernitana riparte dalla B e Mezzaroma ha ribadito le volontà di approdo in massima serie nel prossimo futuro. La società vuole andare in serie A, farà tutto quanto nelle sue possibilità per cercare di raggiungere l'obiettivo. Il primo dispiaciuto, addolorato, il primo che c'è stato male per questa stagione sono stato io, è stato mio cognato. Lei immagina che noi eravamo contenti di come è andata la stagione? Non credo, sarebbe da stupidi immaginare una cosa del genere. Quando dicevo che il calcio è la scienza del giorno dopo, è perché molti di noi hanno la memoria corta, forse io per primo. A me ha fatto esclusivamente piacere che le persone abbiano festeggiato, siano state insieme nel nome della Salernitana. Poi che io ci sia stato, non ci sia stato, la mia posizione personale rileva poco.